5, 4, 3, 2, 1... ... ... ... ... ... ... ... Grazie. 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 No, no, no. Ti va bene? Ti va bene? Ti va bene? Ok? Tai? Ok? Grazie. Ok? Ah, che mi chieda? Guarda è una caldata, è una... Buon ladies. P мал e contro... Pancani, trесь per voi? Amere. Sté torco? È nativo? Ci torco? Grazie. 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 Grazie.